Ciao Siamo tornati con il dodicesimo episodio di ASMR su The Forest Gioco eccezionalmente rilassante per via di tutti i suoi suoni Ma non ci aiuta Non ci aiutano tutti i bug di merda che ha E non ci aiutano le urla di quei pazzi scatenati che ci stanno ormai dilaniando Stanno venendo flotte su flotte su flotte su flotte Vabbè a che punto siamo qua Oggi pensavamo ci siamo lasciati col dirci no? Che vabbè lascia stare l'orto che deve ripartire da zero chissà perché Comunque quest'oggi pensavamo appunto registriamo mentre costruiamo la casa Non registriamo Registriamo quando l'abbiamo finita Cosa abbiamo scelto? Né uno né l'altro Dobbiamo esplorare la mappa E' la cosa più fondamentale Anche perché non punto a fare solo The Forest sul canale Cioè è una serie come altre Quindi va finito il gioco Ok? Anche perché ho fatto degli acquisti per Natale Ho un po' di cose da proporre E mi fa anche molto di giocarci Però non voglio intersecare cento serie come facevo precedentemente Vorrei bene immergermi in un gioco Così che anche la serie viene un po' più carina E siamo a posto Detto ciò Ok Partiamo Detto ciò la casa non ci serve moltissimo Visto che partiamo in esplorazione Quindi non ce ne preoccupiamo al momento E' una cosa più estetica E niente Allora capiamo il punto in cui siamo giustamente Siamo lì Siamo lì Ok quindi noi proseguendo Vabbè qua giustamente finisce la mappa Questo è il bordo mappa Sì Sì e mi sembra molto piccola a questo punto Cioè Oh Niguana è arrivata fin qua Madonna guarda che bei colori sul tuo Guarda che bello Guarda su Oh merda Guardavo il colore io Non ho neanche l'arma in mano O la borraccia Sono un figo Mamma mia Sono un grande Però è quasi notte Com'è possibile che sia quasi notte Che mi viene da dire Pezzo di cacca Che palle Mi scappo perché sono morto Morto Niente allora dobbiamo tornare a casa Ti ricordo amo il tasto 2 Che sei medicinali Te li prende senza aprire l'inventario No adesso va Aspetta che sento urla C'è qualcun'altro Occhia Arrivo io a in acqua se vuoi amo Ti passano attraverso i miei colpi Corriamo di corsa Corriamo di corsa È una pezza questa Che cazzo era un pezzo di Oddio Non so Un pezzo di carne Di quei tizi Un fegato Un cuore Allora lo stava mangiando Quello lì Oh merda Certo per essere più comodi Comunque Comunque amo Adesso Cioè Non adesso Perché dobbiamo Entrare Infatti qua c'è la bella luce Dobbiamo partire Per la spedizione Adesso Però Dobbiamo al più presto Fare un letto Sulla piattaforma Di là È molto più comodo Secondo me E via Però non so Pensavo di aver appena dormito Speriamo che si possa Allora Oh shit Come ci intratteniamo Nel frattempo Ah posso Fare il coso termico Magari in qualche modo Completo termico No Quattro di cinghiale Tre 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 Solo perché ho fatto La borsa per le rocce Quanta bella di cinghiale hai Che magari ne hai cinque Dai Tirala fuori Tirala fuori No No Ah quattro armature inquietante Mamma mia Mamma mia Non male Niente A noi ci tocca aspettare Non c'è niente da fare Se no Sto pensando Con tutti i fallò Che ci sono in spiaggia Amo Ci potremmo fare un po' di luce Provare a prendere Qualche albero intanto Per andare avanti A costruire No Ci sono già le urla Di quei pazzi Scatenosi Più che altro Gli alberi adesso Sono molto distanti Casa E aspetta che le cose Per trasportarli Sono là Gli alberi sono molto distanti E E tornare ci richiede Tutta Tutta l'energia E non riusciamo a scappare bene Da quegli altri Allora Facciamo così un attimo Prendiamo sta zip Mistico l'accendino Che non si spegne E Allora vediamo se qua Si può fare appunto Un Beh potremmo anche Semplicemente farci appunto Un rifugio Di caccia Una piccola capanna Può essere ancora più Carina Caspita Non lo so Ah si dai Però la porta è di lì Ah potremmo Ah guarda bello La mettiamo qua Con la finestra lì E la porta da questa Però l'ho messa storta Vediamo di fare Un lavoretto Ad hoc Una cosa del genere Dovrebbe starci A vedere Ma si dai che va bene Allora amo Mandami i tronchi Col coso Per piacere Me ne servono Tre tici Che dovremmo Con le due Cose lì Averli Non è arrivato Niente Stai morendo Di freddo Ti ricorda Ok Ok Oh miseria Non lo so magari ti sei bagnata Escolta Escolta Tambi staccati Un porca Troia arriva Ciao Ciao La porca Dicora putana Moyo 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 Dio buono, prendimelo Dio buono, c'è troppe mezzalora Scappa, 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 scappa indietro Due, 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 due Non ce l'hai fatta Devi tornare dove puoi metterti in piedi due secondi E lì prova a distrarre io Ma che cazzo, ma che cazzo Ma, ma che cazzo Ma che cazzo, cosa Aspetta cazzo No, cioè non è Non capisco, sinceramente C'è questo in acqua, continua a saltare C'è cos'è che stava succedendo Dove non proprio ammazzarmi? C'è guarda fin dove cazzo è arrivato Fuori di testa Fuori, fuori di testa Fuori di testa Fuori di testa Fuori di testa Se mi spedisci Tvp Ma sei di nuovo tu? Mandami i tronchi dai che facciamo sta cazzo di casa Non c'è Non c'è Non c'è Ma sei di nuovo ancora cinque ma che cazzo di chi t'hai? no stai andando su vuoi ferma lì? no ma premi i apri l'inventario un attimo ma non stai usando quelli? quali? mangia quello ma che cazzo ne so starei mangiando erba vediamo dopo quella roba lì ti sarà cambiato il tasto per la sezione rapida mandamene uno mi manca l'ultimo e vieni anche te addio boh dormi va eh dormire ascolta facciamo ci facciamo anche un un essiccatoio qua frega un cazzo se io lo faccio qua non si apre più la porta esatto quindi lo dovrei fare qua davanti va bene dai adesso non ha senso neanche la carne ok forse finalmente possiamo partire non ci ha tolto niente di di cibo what the hell possiamo partire direi ti direi tu stai male non ci ha tolto niente di andiamo andiamo allora no stavamo proseguendo di là ma i segnalini mi chiedo io i segnalini che abbiamo messo sulla mappa c'è un senso a tutto ciò oppure no? che senso no? cioè noi abbiamo messo le bandierine il bastoncino di segnalazione c'è sulla mappa qua adesso non si vede vedi che esploriamo la zona in cui c'è che la zona viene esplorata sulla mappa la zona in cui ha piantato dopo compare sulla mappa mi chiedo io allora uno dei prossimi obiettivi è comunque oddio aspetta qua mi indica qualcosa tipo una grotta ah 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 pam pam eh vabbè generalmente siamo eh quella roba ah perché tu c'hai pixel di merda non hai non hai tanta qualità nel gioco le impostazioni per per mantenere una buona prestazione per non farlo scaldare troppo abbiamo abbassato un po' i tuoi volume i tuoi sono tutto sono tutto tondo ascolta entriamo che tanto bene bene ormai ormai siamo preparati a queste grotte ah ecco io mi volevo cambiare il tasto eh per assegnare la segnazione rapida cosa che devo fare ascia piatta e combino con questa eh madonna che casino però vabbè alcolici direi di no piuttosto molotov piuttosto di molotov bevivo alcolici via e ti tiravano un po' sulla salute che gioco di merda tre ci mettiamo no che cacchio ha fatto ah le molotov ci sta si su 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 quattro di medicina allora uno mazza della fortuna due medicinali tre molotov quattro arco spettacolare adesso adesso possiamo ragionare meglio vediamo se possiamo craftarne qualcun'altra pieni la borsa per morotov mi sa che non esiste ok buono allora ragazzi noi ci fermiamo qui nel prossimo episodio ci addentriamo in questa grotta ci sta ci sta si sta facendo interessante speriamo di non essere troppo accompagnati dai bug e cose varie cioè già siamo ispiratissimi a comprare son of the forest ho visto però requisiti pesanti per il computer e essendo che costicchia un po' e di ciò che dobbiamo comprare due vediamo vediamo un attimino vediamo dobbiamo valutare comunque come dicevo poi ci sono anche tante altre tanti altri bellissimi giochi che vogliamo portare vogliamo portare e dobbiamo fargli conoscere un po' il panorama videoludio a queste ragazze amici alla prossima